Droga e distorsioni, sempre con una firma mafiosa, IPM della Didia di Caltanissetta, Claudia Pasciuti e Davide Espina, a conclusione ieri di una lunga requisitoria che in parte proseguirà la prossima udienza per le posizioni di due imputati, hanno chiesto pesanti condanne nei confronti dei coinvolti nell'inchiesta Donne d'Onore condotta dai carabinieri. Nicola Liardo, da quanto emerso, nonostante fosse ristretto in carcere, sarebbe riuscito a coordinare un giro di droga e distorsioni con la piena collaborazione dei familiari in libertà. IPM hanno chiesto la condanna a 21 anni di reclusione per Liardo, 16 anni e 3 mesi invece sono stati avanzati rispetto alla posizione del figlio Giuseppe Liardo, che si sarebbe mosso per la droga e per l'intimidazione, titolari dell'ex Barrosi in corso al Disio, che fu danneggiato a colpi di arma da fuoco. E' stata invece chiesta la soluzione per l'intimidazione all'imprenditore Emanuele Mendola, la cui abitazione fu raggiunta da colpi di pistola. 17 anni di reclusione sono stati chiesti per un altro imputato, Salvatore Ragnolo, che a sua volta si sarebbe attivato per mantenere i contatti con i presunti fornitori della droga a Catania. 3 anni e 3 mesi di detenzione, la richiesta formulata per Carmelo Martínez è anche lui accusato dell'intimidazione agli ex titolari del bar di Corso al Disio. Così come per Giuseppe Liardo è stata chiesta invece la soluzione per gli spari contro l'abitazione di Mendola. Non sono emersi elementi certi per attribuirgli responsabilità. 8 anni è la richiesta delineata per la posizione processuale di Giuseppe Maganucco, ritenuto coinvolto nei fatti collegati al bar. La soluzione invece è stata chiesta per Calogero Greco. Nel corso della prossima udienza invece verranno definite le conclusioni per altri due imputati. Si tratta di Monia Greco, moglie di Nicola Liardo e della figlia Dorotea Liardo. In base a quanto emerso si sarebbero messe a disposizione sapendo del giro di droga. Durante l'udienza di ieri uno dei legali di difesa, l'avvocato Giacomo Ventura, ha chiesto l'ammissione di una perizia tecnica su alcune intercettazioni condotte in carcere durante colloqui tra Nicola Liardo e i familiari. Per lo stesso Liardo, che è intervenuto in videocollegamento, la relazione tecnica farebbe chiarezza sull'effettivo contenuto dei colloqui. Tutti gli imputati hanno sempre sostenuto di non essere mai stati coinvolti nel giro di droga o nelle estorsioni ricostruite dagli inquirenti. Gli investigatori monitorarono l'intero nucleo familiare di Liardo anche attraverso intercettazioni dei colloqui in carcere. Toccherà alle difese a replicare con le rispettive conclusioni davanti al collegio penale presieduto dal giudice Miriam D'Amore. All'atere i giudici Martina Scuderoni e Vincenzo Accardo, gli imputati, sono invece rappresentati dagli avvocati Flavio Sinatra, Davide Limoncello, Carmelo Tuccio e Maurizio Scicolone.